Gli operai sono tutti risultati irregolari, di questi 15 anche in nero. La ditta è stata così chiusa, l'amministratore denunciato e per lui arriva anche una stangata da 200.000 euro. Questo il bilancio del blitz dei carabinieri in un'azienda a Orafa di Arezzo. I militari sono intervenuti nel corso della notte, quando l'attività lavorativa era in pieno corso. All'interno dello stabilimento in via Francesco Baracca c'erano 34 persone all'opera, risultate tutte impiegate irregolarmente, di cui appunto 15 in nero. La proprietà è riconducibile a un 31enne bengalese e gli operai sono tutti suoi connazionali. L'azienda non ha un brand con cui commercializza i suoi prodotti, bensì lavora per conto terzi, realizzando semi lavorati in oro, argento ed altri metalli preziosi. Assieme ai militari questa notte erano presenti gli operatori dell'Ispettorato del Lavoro di Arezzo e dell'Inps che hanno rilevato anche numerose violazioni in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. Denunciato il 31enne titolare della ditta, assieme ad altri tre lavoratori extracomunitari, risultati non in regola con il permesso di soggiorno in Italia. Per l'amministratore è anche scattato il provvedimento di sospensione dell'attività, conto salatissimo infine da pagare per quest'ultimo, oltre 200.000 euro tra ammende, sanzioni amministrative e recuperi previdenziali. Sono infine ancora in corso accertamenti per meglio delineare le violazioni riscontrate.